Partiamo a questo punto di perturbatori endocrini, visto che vi ho fatto vedere tutti gli ormoni, vi ho fatto vedere quali sono le funzionalità fisiologiche e vi ho fatto vedere comunque parte della patologia. Adesso vi faccio vedere cosa invece sono delle molecole purtroppo esogene che non dovrebbero essere così diffuse, non è che non esistono, esistono in natura, ma non avrebbero dovuto essere così diffuse da andare a modulare invece parte del nostro sistema endocrino come un perturbatore esogeno. Cioè, visto che non sono delle molecole prodotte dal nostro organismo, vanno a determinare delle perturbazioni a livello dei sistemi che vi ho appena finito di far vedere. Cosa sono queste molecole? Sono appunto delle molecole, guarda caso, normalmente aromatiche, normalmente, ve le faccio vedere non per farvi vedere la chimica, giusto per cascare sempre sulla stessa buccia di banana, sono tutte cicliche, sono tutte lipidiche, sono tutte aromatiche, quindi hanno gli stessi diavolo di anelli che ci vanno ad alterare gli orologi biologici, ok? Quindi, sono delle sostanze che vanno a mimare le sostanze vere, gli ormoni veri, e che vanno quindi ad alterare la sintesi, la secrezione, il trasporto, l'azione, il legame, l'eliminazione, di tutto quello che volete, perché se loro vanno a mimare, purtroppo, queste cose, se voi pensate questo, assomiglia molto alla vitamina D. E qua ci sono degli elenchi che vi ho fatto solo per averli, per capire. queste, purtroppo, alcune sono note, perché alcune sono gli ormoni animali, piuttosto che gli ormoni vegetali, che non ci mangiamo con l'alimentazione. Peccato che, visto che sono dei fattori di crescita e vanno a modulare il metabolismo degli animali e dei vegetali, esattamente come modulano quello animale, ce li ficcano, quindi ce li ficcano solo, non solo quelli naturali di queste piante che noi comunque mangiamo, ma li usano per andare a allevare meglio, più in fretta, più velocemente, secondo loro, gli animali. Quanto ci sono quelli farmacologici? E vabbè, se sono farmacologici non sai che cosa stai mangiando, almeno sai che tu fai una terapia sostitutiva, sai che ti stai prendendo delle molecole. anche se ci sono, vi farò vedere alcuni farmaci che in realtà noi non veniamo, non vengono letti come tali, ma hanno questa forma, questa molecola, noi usiamo il farmaco per tutt'altro e in eccesso usato inadeguatamente diventa un perturbatore. In più, quelle più pericolose sono quelle appunto che nella società moderna sono sintetiche industriali, sono tutte queste schifezze di tutta l'industrializzazione, di tutto l'inquinamento, di tutti i sistemi di appunto produzione industriale o meglio di eliminazione industriale che producono tutte queste molecole che vanno a organizzare quindi un'alterazione delle ghiandole, vedete che sono le stesse ghiandole che vi ho fatto vedere prima. Come fanno ad entrare? Ve l'ho già detto, sono lipidiche aromatiche quindi non c'è nessun controllo, la grossa fregatura che essendo quella di molecolina lì non ha nessun controllo, non ha nessun canale, non ha nessuna pompa, non ha niente, entrano come tutti i grassi. E cosa vanno a legare? Gli stessi dentici recettori che sono deputati alla regolazione del metabolismo e che vi ho detto sono nucleari. Quindi vi ricordate quando abbiamo fatto la vitamina D o il colesterolo, anzi questo è quello del colesterolo, loro vanno a mimare esattamente il sito stereoscopico. Allora, questo è quello che per natura è quello dell'estrogeno, ok? Questa è la molecola vera dell'estrogeno, questo è il sito stereoscopico che corrisponde perfettamente. Peccato che in natura questo sistema in parte secondo me era stato fatto per protezione. Io non ho gli estrogeni, vado in menopausa, mi mangio la salvia, mi mangio la soia, mi prendo quello che si chiama isoflabone che è una molecola fatta simile che va a mimare il mio estrogeno personale e quindi vado ad attivare ugualmente questo recettore. Peccato questo sia il bisfenolo, ve lo faccio vedere dopo, questo sia la diossina, ok? Quindi sono due molecole tossiche che in realtà vanno a perturbare perché poi adesso vi faccio vedere qual è la doppia fregatura. Loro vanno a mimare, vanno a perturbare questa attività perché purtroppo non è selettivo, purtroppo siamo noi che siamo anche fatti così. Noi non siamo così egoisti da rispondere solo al nostro estrogeno. Noi siamo più tolleranti, risponderemmo anche a delle robe che mimano. Peccato che natura non aveva previsto che avremmo prodotto quinta latte di diossina. I recettori essenzialmente sono quelli degli estrogeni, purtroppo il 90% sono proprio degli perturbatori del sistema degli estrogeni. Io ho fatto vedere, fanno di tutto ancora un po'. E qua ci sono tutte le patologie invece dovute agli estrogeni sia sulle donne che sugli uomini con le alterazioni di nuovo a livello generalizzato, il cervello, la parte arteriosa e il tessuto adiposo. Allora tu mi dici, la popolazione moderna hanno tutti la sindrome metabolica, hanno tutti un'alterazione al metabolismo degli adipociti, hanno tutti l'ipertensione perché il 90% della gente ha l'ipertensione e ora sta diventando anche demente. Ma è colpa loro? Parte, non è che tutto sia giustificato da questo, parte giustificato da questo, perché io vado ad alterare questo sistema che avrebbe dovuto essere in equilibrio dagli estrogeni fisiologici. Può essere mantenuto per qualche cosa, ad esempio la soia, ma io mangio la soia, lo so che mangio la soia, ma se mi becco la diossina, questo va tutto a catafascio. Perché non ci bastava ti fa venire anche dall'obesità, tu vai ad attivare degli sistemi patologici, angiogenesi, proliferazione, aumenta la sopravvivenza e ti viene pure il tumore. Un po' meno gli androgeni, ma sicuramente ad esempio il tumore della prostata è mantenuto da questa alterazione. Se io avessi avuto il testosterone avrebbe funzionato bene, invece questo va ad alterare la risposta e mi viene prima di tutto l'ipertrofia prostatica benigna e poi la trasformazione in tumore. Quanto esattamente è la stessa identica cosa al cortisolo. Allora io vi ho detto, l'eccesso di cortisolo mi fa venire la sindrome di Cushing, ok? Questa malattia grave, mortale, che dà tutte queste robe buone. Ma se noi ci pensiamo, prima di arrivare a essere mortale, a alterare il sistema dell'infiammazione, mi viene l'infiammazione cronica. Visto che sono comunque delle molecole non acquintali, prima di riuscire a portarti alla morte, però ti va a scombinare tutto quello che abbiamo detto prima. La stessa identica cosa a questa diavolo di tiroide. È vero che noi abbiamo tutti i problemi della tiroide, ma se il recettore tiroidei su tutte le cellule, invece di essere stimolati veramente dalla tirosina, si chiama il D4, che cosa fa? Va ad aumentare il metabolismo in un modo completamente alterato. Anche in parte quelle molecole che possono andare a mimare la vitamina D, ma io alla fine cosa faccio con la vitamina D? Quindi, sapendo che la vitamina D è una vitamina naturale, io ottengo l'effetto che voglio in senso positivo, perché io so che la vitamina D va in positivo, perché è naturale. Se io ti dessi la diossina, ottengo esattamente il contrario. Quindi io uso, mimo, questa capacità di perturbare con la vitamina D, perché io so che la vitamina D è fisiologica. C'è ancora un altro recettore nucleare, si chiama P-PAR, prendetevelo così. Il P-PAR, se io lo attivo con i grassi alimentari, se io lo attivo con le prostaglandine e il sistema immunitario che funziona fisiologico, lui è un antinfiammatorio, va a regolare la differenzazione degli adipociti, quelli che vi ho detto che non si devono moltiplicare, va ad avere degli effetti antidiabetici e io lo vado ad attivare con i farmaci antidiabetici. Ma se io lo vado ad attivare con delle altre molecole in eccesso ad alte dosi, lui va dalla parte fisiologica, si capovolge sulla parte patologica e quindi mida tutta l'alterazione del cuore di pervenzione, del rene, l'insufficienza renale, dell'osteoporosi, deficit del cervello. Tanto poi gli organi sono sempre gli stessi. Quindi l'eccesso di queste molecole che mimano l'attività su questi P-PAR perché di nuovo sono generalizzati. Ecco qua la fregatura. Cosa fanno? Attivano o disattivano? Perché li chiamiamo perturbatori? Perché non lo sappiamo manco cosa devono convenerlo. Quelli possono attivare, disattivare, spegnere quello che ti serve, riaccendere, accendere in eccesso, in alcuni momenti accendere, in alcuni momenti spegnere. Essendo una cosa inesistente in natura, non riconosciuta dal recettore, ad alte dosi, che ne sappiamo? Possono fare qualunque cosa. Quindi in realtà il grosso problema è che la risposta è ipotetica, impossibile da studiare. Abbiamo dovuto studiare la clinica e quindi malati. Ancora, ad esempio il tamoxifene, questo cavolo di roba che danno per il tumore. Allora io vado a mimare e a disattivare il recettore per l'estrogeno a livello della mammella, con questo tamoxifene spegne e quindi mi protegge dal tumore, almeno dalla recidiva del tumore. Peccato che a livello dell'utero fa esattamente il contrario, per cui non sai neanche a livello dello stesso tessuto. Io lo uso per far questo, penso di far bene. A livello dell'utero fa esattamente il contrario. Perché il recettore dell'utero funziona al contrario? Che ne sappiamo. Se io gli avessi dato l'estrogeno avrebbe funzionato nello stesso modo. Io gli do il tamoxifene a livello dell'utero perché mima, perché è solo finto. Quindi questo maledetto recettore che assomiglia, lo vedete che assomiglia, ma non è la stessa identica cosa, perché quello sta nell'utero. Te lo fa venire il tumore. Quindi adesso ci sono delle persone che si fanno togliere l'utero per avere la possibilità di fare il tamoxifene. Cosa fa a livello delle donne? Cosa fa a livello degli uomini? Non lo sappiamo. Tutto quello che volete. Quindi l'eccesso di queste molecole ha questo problema appunto su questa regolazione. Dove stanno? Purtroppo dappertutto. Purtroppo specialmente quelli appunto che ho fatto vedere, quelli alimentari, quelli naturali, un discorso, quelli sintetici nella società moderna 2019 dappertutto. Nei tessuti, nei materiali plastici, nei materiali da ristrutturazione, nelle vernici, nei colori. Vi ho messo 3 o 4 tabelle dappertutto. In qualunque diavolo di prodotto. Vi faccio vedere 3 o 4 prodotti proprio per, appunto, vedete nelle pentole, qui c'è una bottiglia famosa plastica PET e il grosso paradosso, il grosso problema è che non sapendolo, spesso e volentieri la gente ti dice, ah ma io vai dal medico e tu gli dici guardi che c'è questo problema. Le mamme ti dicono, ma io non la uso la soia, ma io non uso la terapia sostitutiva. Ho capito, ma tu non ti rendi neanche conto che in realtà tuo figlio, specialmente questo, adesso vi faccio vedere, eppure sugli animali, perché noi ormai lo facciamo anche sugli animali, va ad alterare questi metabolismo. E l'impatto appunto è sconosciuto, guardate sul cervello, ipoteticamente è stata fatta una valutazione di quanto potrebbero essere i danni, i danni sul sistema nervoso da parte di quelli che sono essenzialmente i pesticidi è del 130%, mentre sull'obesità 15%, sulla mortalità 6%, sui problemi ormonali un po' di meno, sul cervello è veramente impressionante. quindi, estrogeni vegetali, questa storia della soia, io parlo tanto dei, allora sì, la soia, i cereali integrali, i piselli e i semi, no. Io parlo del trifoglio rosso, parlo di tutta questa alimentazione, perché sono naturali e ne hanno un po' di meno. Questi che sono? In parte OGM, e quindi con l'OGM già non sai più quanto ne hanno di questi fitoestrogeni, ma in eccesso, noi non siamo fatti per mangiare, guardate caso sono sempre dei carboidrati, non siamo fatti per mangiare l'eccesso di queste molecole. La soia, perché OGM, quindi l'hanno già fatta diventare le OGM, la soia oltretutto contiene una quantità spaventosa, loro te la pubblicizzano, così, zero colesterolo, la lecitina, gli isoflavoni, capito? Allora, in 40 grammi di proteine isolate di soia, che ci sono dappertutto, in qualunque alimento iperproteico per i bambini, perché è leggero, perché è figo, ma contiene 90 grammi di isoflavoni, che è quello che noi usiamo, oltre di foglio rosso, forte, sono 80 grammi nella dole in menopausa. Allora, tu ti prendi questo dosaggio senza saperlo, e di nuovo la soia dove sta? In qualunque cosa, questa forse si vede un po' di più, nella parte alimentare, nei tessuti, nei giocattoli, proteine, dappertutto, veramente da qualunque parte, in cui è vero che a basse dosi potrei avere degli effetti benefici, ma ad alte dosi mi va ad alterare tutto quello. Ricordatevi che appunto la soia, perché oltretutto uno è come strano, per cui ha 30% di proteine e 30% di carboidrati, viene usato come conservante, come omogenizzante, come fluidificante, oltre alla dieta vegetariana e vegana, che proprio l'ha portato alle stelle, quanto in vero in realtà è pieno di fitoestrogeni. Quei bambini che vi ho fatto vedere prima con la panza e dopo vedremo con le tette, questo lo va bene, il maschio è più a rischio, proprio perché il maschio di estrogeni non dovrebbe avere così tanto, vi ho detto che gli fa bene un po' di estrogeni, ce li ha un po' di estrogeni, ma non si può mangiare questo diavolo di hamburger finto, ma più che altro non dobbiamo lasciarci ormai travisare da quello che è l'industrializzazione, allora, il prosciutto cotto di bassa qualità ha le proteine della soia, ma perché nel prosciutto cotto ci devono essere le proteine della soia? Perché è un conservante, mentre nell'alta qualità bisogna fare assolutamente attenzione che ci sia scritto che non ci sono, e la stessa cosa sono le proteine del latte. La maionese vegana, quella roba che io dico sempre, altro che questo taroccamento del mondo, come è che l'ha chiamato? Il mondo invisibile, il mondo olografico. No, ecco, il mondo olografico. Allora, la maionese come fa a essere vegetale? Mia nonna mi ha spiegato che la maionese si fa con le uova, tutto il resto, va bene, la chiameranno anche crema, ma tutto il resto è una schifezza. Con cosa la fanno? Con le proteine della soia, modificata, non geneticamente modificata, c'è scritto, poi fatemelo vedere. Anche questo, cotoletta con carote e carne di pollo, ci sono praticamente 30% di carne di pollo e l'80% di soia. Le bellissime integratori, tutti dietetici, e qua, guardatemela bene questa foto perché è veramente allucinante, ti dice che ha le vitamine come la mela, come la banana, come questa, come quell'altra, ti dice che ha le proteine come il pesce. Qua c'è scritto che lui ha il 30% di vitamine come il salmone. Peccato che ci hanno messo dentro la soia, o gemme, con gli estrogeni. Oppure, appunto, questo, io dico, mangiate la frutta secca, ma non la soia tostata. Ok? I biscotti, per cui la soia, perché sono le proteine, con cosa fortificano? Sapete cosa sono gli i-fortify? Gli i-proteine, questi da noi un po' di meno, ma i fortify per i bambini? Con le proteine della soia e agli uomini gli vengono le tette. I legumi, a parte il fatto di tutto quello che io dico sempre sul carboidrato, i legumi hanno una buona quantità di fitoestrogeni. Questi sono essenzialmente androgenici, questi invece sono al contrario, questi sono quelli che vanno sul recettore dei testicoli degli uomini. Ma anche questo, allora a questo punto, questa volta non fa bene a noi, la pasta iperproteica è fatta con le proteine del pisello. Di nuovo, perché è un'addensante, un'emulsionante, adesso poi che siamo diventati tutti vegani, proteine del pisello dappertutto. Semioleosi, io lo dico a tutti, i pinoli e i pistacchi hanno una alta quantità di fitoestrogeni, quindi purtroppo fare, infatti alla gente che ha, ad esempio, il tumore, io dico, mangiate un po' di frutta secca, non i pinoli e pistacchi, ma dall'altra parte di nuovo l'eccesso. Va bene la frutta secca, ma non te la puoi mangiare a scatola tutti i giorni, ok? Va bene, io lo dico a tutti di mangiarla come spuntino, ma non quintali ed essenzialmente fare attenzione ai ragazzini, perché appunto, specialmente nelle donne se hai il tumore ormonodipendente, hai questo tumore che vi ho fatto vedere prima, che nella mammella magari viene regolato, ma nell'utro ti viene. O prendi il tamoxifeno, o prendi gli altri cosi contro la soia, e poi non ti puoi prendere la soia, forse diventa il pasticcio. Quindi di tutti questi latti vegetali, tutti belli e carini che ti raccontano la soia, le mandorle, il pistacchio, non lo puoi mangiare regolarmente. Tutte le mattine il latte non si mangia, neanche quelli vegetali, specialmente se hai dei problemi già di questo genere. Poi se uno sta bene, per carità, non ti è mai successo niente, può andare bene. Tutti i contenitori di plastica, questa benedetta una volta si chiamava PET, PET o PDC. È vero che ci sono tutti questi codici, ci sono quelli che vanno meglio, quelli che vanno peggio, quelli che con il caldo, perché il grosso problema è che essendo tutte plastiche alimentari, quando li riscaldi loro liberano queste molecole. Ma questo è il diavolo di bottiglie, tu sai dove sono state? Tu dici io le tengo in cantina, sì tu le tieni in cantina, ma il supermercato secondo te le hai messe in cantina? Queste magari girano per degli anni a tutte le temperature, per cui infatti bisogna fare attenzione a quali ci siano, alcuni sono anche stati aboliti, sono stati resi non commerciabili, però il massimo non è. Tutte queste pentole, quelle pentole come si chiamano di teflon, tutte queste schifezze quanti aderente, usate e queste... il mestolo, questa roba qua, usate quelli di legno, il bel legno d'olivo profumato di una volta, quando si rompe lo butti via appunto. Queste carte, le carte, le carte che avvolgono i panini, che sono plastificate, così hanno un'altra roba che si chiamano ftalati, ancora peggio, questi abbiamo gli ftalati dappertutto, ti fanno venire di tutto e ancora un po', guardate il consumo degli ftalati, hanno tolto gli altri, vi ho detto hanno abolito quelli appunto in pet, e così abbiamo gli ftalati che nessuno conosce. il bisfenolo, questo è uno che l'hanno tolto, cosa producevano col bisfenolo? I bisfenolo dei bambini, quindi già dal primo giorno lo riempivi di cosa, quando ha tutti questi effetti sul fegato, sugli estrogeni, sulla polarizzazione delle cellule che stanno crescendo, sul sistema immunitario, sulla proratina, su tutto quello che vuole. I farmaci, eccoli, ricordatevi che tanti integratori, visto che vengono usati come farmaci, sono grassi, questa benedetta tachipirina, prendi la tachipirina che tanto fa bene a tutti, che la puoi prendere a quintalate, tanto non è tossica, no, muore in sufficienza epatica perché è tossica sul fegato, due e un, perturbatore endocrino, quindi pure la tachipirina, mi spiace, ma non è colpa mia, tachipirina ha l'anello aromatico che mima gli estrogeni, appunto gli soflavoni della soia, questo invece lo sapete, quando la salvia, se io lo so, lo so, io lo prendo perché, il trifoglio rosso lo prendo perché ho la menopausa, va bene, ma non che tu non lo sai, altri, parabeni, stanno nei farmaci, guarda caso, in tutte le pillole, nello sciroppo, tutti questi cavoli di blister maledetti, quando tutti i prodotti, il contenitorio, addirittura nei prodotti, nei saponi, nei detergenti, sempre le stesse molecole, sempre aromatiche, questo è l'estrogene, questo mima di tutto e ancora un po', ce ne sono di vietati, ma ce ne sono di non vietati, se andati negli Stati Uniti, per carità, di tutto ancora un po' trovate. Le gomme, queste benedette gomme che i bambini si ciuccerano e si mettono dappertutto, avete presente le gomme che stanno in fondo? Una volta almeno, ve le ricordate queste gomme? Erano cattive, queste noi non le mangiavamo perché facevano schifo, adesso le hanno fatte tutte belle colorate, tutte belle fighe, le carte, le carte per i giocattoli, tutti i cosmetici per i bambini, certo, pieni di triclosan, questo ad esempio si chiama, tutte queste gomme, tutte belle colorate, eccetera, che i bambini si ficano in tutti i buchi del mondo. I pesticidi, questo lo sappiamo, questo è il problema industriale, quindi gli erbecidi, gli insetticidi, i rodontocidi, tutte queste robe qua, i mulosfucidi, i poveri molluschi, i polipetti, sempre così a dosaggi industriali. Hanno fatto finta di toglierli, sono diminuiti un pochettino, hanno detto, inventiamo gli OGM che così sono più resistenti e togliamo i fertilizzanti, infatti si vede, guarda caso l'uso dei chimici insetticidi nella, allora, questi sono per molecola, gli insetticidi, gli erbicidi, questi sono i, il nome proprio delle molecole, organofosforici vi dice qualcosa? Il fosforo bianco, sapete cos'è il fosforo bianco? È un tossico, si usa nella guerra biologica, comunque sono dei potentissimi tossici, questi sono i settori industriali, quindi l'agricoltura, vedete, i servizi, vedete c'è nei servizi, cosa vuol dire? Il pullman, i tessuti lavabili dei treni, le tende, i nifughe, tutte quelle robe lì, sono tutte piene di questa roba, i lavoratori coinvolti, appunto, i farmer, gli agricoltori, i poverini e questa è la distribuzione nel mondo, eh madonna mia, comunque lo vedete, lo riconoscete, praticamente manca la Siberia, ok? Tutto il resto è tutto invaso, anche perché essendo prodotti grassi, si disciolgono, quando io le nuvole li porto al terreno e poi li disciolgo nell'acqua e poi li faccio metabolizzare dalle piante e poi arrivano nelle falde acquifere, cosa succede? Bravo, si concentrano, non si distrugge mai niente, addirittura per milioni di chilometri tu hai quello che si chiama il bioaccumulo, poi arrivano nell'acqua, loro i pesci se li mancano e poi noi mangiamo il pesce e poi diciamo che le api muoiono, poverine, certo, sono per i fertilizzanti, invece di mangiare il polline si mangiano il fertilizzante e quindi il miele è aumentato, il miele è pieno, cioè la quantità di queste molecole nel miele sono aumentate. Guardate, pure questo non lo sapevo, inquinamento delle acque pubbliche, queste sono le acque superficiali, guardate il Piemonte, veramente siamo uno dei peggiori regioni che hanno l'inquinamento fino al 35% delle acque superficiali, pure delle acque profonde, fino al 16%. Le acque delle regioni Piemonte è una delle peggiori sia sotto che sopra. Quanto? La frutta e la verdura, ovviamente, perché se abbiamo taroccato le acque, abbiamo taroccato i terreni, più lo sapete che ce li ficca, sapete benissimo che gli fanno queste robe qua, magari non direttamente, non una mela per volta, ma nel terreno, noi oggi sappiamo che più del, questo è quello che ti dice la legge, questo invece sono i campioni, la legge ti dice 5%, l'1% eccetera, i campioni sono 50, 45, 43 saluti e baci, molti residui, perché poi non ne hai uno per frutta, hai tutta una bella serie, tutti messi insieme, per cui nel tuo piatto, senza residui, 50-60%, ma c'hai una bella quantità. Ovviamente se te lo mangi, voi che mangiate 8 volte al giorno, io no, 3 volte al giorno per 25 anni, fate Bobis. La carne è la stessa cosa, gli alimenti intensivi, estrogeni, farmaci, appunto di quelli lì liposolubili, gli antibiotici e quant'altro, se siete contenti di mangiare delle galline ciccione come noi, ovviamente noi troviamo tutte queste cose in particolare, perché sono gli stessi antibiotici, guardate, hai l'antibiotico, gli ormoni, i prodotti della pulizia degli allevamenti, i metalli pesanti, i farmaci e i farmaci, ne hai 5, su tutti gli altri, pensi che gli altri siano più importanti, e poi ce la prendiamo con la mucca pazza, ce la prendiamo con i batteri, poveri lì, alla fine i batteri sono una cosa migliore, in tutto questo casino qua preferisco un bel batterio, perché appunto si accumula. Questo è l'analisi di una bottiglia di latte, volete bervi il latte, oltre a tutto il resto che io vi dico, il lattoso, la casellina, eccetera, eccetera, e voilà, vi mangiate tutte queste belle schifezze, oltre all'antinfiammatoria dico, vabbè, bevo la bottiglia di latte, mi passa pure mal di testa, no, ti prendi tutte queste robe. E quindi tra tutto, ancora le uova, pure le uova, perché ce le abbiamo per uova biologiche? Perché se si può virarci, si mangiano i pesci con il bioaccumulo, le uova sono già tossiche per di loro. Più la macellazione, più la conservazione, più il glifosfato, che invece questo l'hanno tolto dal commercio, certo, sicuramente, nel 2010, non voglio sapere, nel 2018, che c'è in tutti i cereali, il glifosfato è essenzialmente diservante del grano. E poi, appunto, mettete tu, qual volete, gli esteticidi, le vernici domestici, in tutti i vostri angoli di vostra casa, gli organi fosforici che hanno, la tossicità acuta, a basse dosi, hanno una tossicità neurologica. Nelle guerre si usano in Afghanistan, quando la tossicità ad alte dosi, questo è quello che usano nelle guerre, ad alte dosi, il fosforo bianco, appunto, per ammassare la gente, quello che ci prendiamo noi, invece, è quello degli agricoltori, quello che usano come diservante, ti viene il Parkinson, e voilà. Patologie, umimi, ve le faccio solo scorrere, poi, in realtà, ve le ho già fatte vedere. Quindi, sessuali, tutto quello che vi viene in mente, se uomo, donna, alterazioni della pubertà, e le ragazzine hanno le mestruazioni a otto anni, gli uomini non matureranno mai, ci avranno le tette, la pancia, e di uomini di virile, non c'è più niente. scompare, questo lo faremo quando faremo a ottobre il bambino, scompare la finestra, c'era per natura una pausa ormonale, una finestra dai 3 o 4 anni ai 15 anni, non c'è più, perché ovviamente li li dai, e quindi hai tutte queste alterazioni. La bambina di 8 anni, che anche dal punto di vista psicologico, non va bene che si trovi con le tette e con le mestruazioni, gli uomini diventano questi bellissimi tacchini senza i peli, e hanno le tette dappertutto, hanno sicuramente la, non solo l'acne, eccetera, ma hanno proprio quella che si chiama l'alterazione della rappresentazione di quello che tu sei, perché questo povero bambino secondo me non è contento, quando vede l'altro un po' ma non è. Tutta l'infartilità, i problemi della dismenorrea, l'ovaio pulicistico, i disturbi sessuali maschili, eccoli qua, gli spermatozoi, due teste, due code, l'ovaio, diventa qua, cristallo, tutto quello che volete, tutto quelli rincitrulliti, ed è sempre più diffuso, ma questo veramente, se tu lo prendi sul ridere, c'è veramente da ridere. ecco qui la patologia metabolica che dicevamo prima, se la tiroide gli vengono i noduli, nella mammella ti vengono i noduli, nella mammella maschile ti vengono i noduli, ti viene prima la fibro, la malattia fibrocistica, e poi se sei sfortunato, il tumore. E gli uomini con queste belle tette, ti piace? Se vi piace il genere, per carità, io avrei preferito questi bei torcioli, desaparecidos, non ci sono più. anche perché, dal punto di vista, poi, estetico, ormai c'hanno i caperini, e fra un po' c'hanno, no, c'hanno già gli orecchini, i piercing, quindi c'è un misculo, che non sai più bene, questo è bellissimo, leggetevelo, gender brand person, sapete cosa vuol dire persone 2.0? Sono gli aggiornamenti, qua ci sono tutti gli aggiornamenti, con tutti i mix che volete, con tutte le alterazioni di tutto, l'attrazione sessuale, romantica, tutti sono bellissimi, sono fatti per ridere, non sono scientifici. Calo della libido, quindi lui viene prima, la donna viene dopo, poi non si trovano, poi lui è precoce, poi litigano, fanno un gran pasticcio, l'umore, vabbè, lasciamo perdere, va a farsi benedire, per cui, qua, altro che mestruazioni, meno pausa, non lo so, la depressione, perché vi ho detto che tanto, è legato all'umore, quindi la depressione nella donna, la depressione nell'uovo, un po' di meno, la depressione della gravidanza, i tumori, e quindi tutto quello che è, e noi ne sappiamo i meccanismi, ah, noi sappiamo tutto, questo è quello che a me fa arrabbiare, noi sappiamo passo per passo, per catto che noi arriviamo tutti qua, il 90% della gente ha il tumore della prostata e l'obesità, grazie. tutte le malattie non sessuali, quindi metteteci di nuovo, tutto quello che volete, tutto, tutto, perché alla fine, se i regolatori vanno tutto, il sonno, l'alterazione del sonno REM, vi ricordatevi, abbiamo spiegato, che deve andare il sonno REM, questa poveraccia, ci va il sonno REM, ma anche colpifero, non produce più la melatonina, fa tutto un gran pasticcio, l'ansia, l'umore, questa è la mappatura con la risonanza magnetica, si chiamano risonanze magnetiche dinamiche, se io sto bene, questa è la risonanza magnetica, se io sto male, è un gran casino, ma questo che cos'è? è la fase, eh? è la fase di cui parlava stamattina Massimo, ok? il cristallo da Shimoto, la fase dell'acqua, qui di fase, andate, e poi parliamo della violenza, la violenza sui bambini, sulle donne, sui neri, e vabbè, per forza, l'autismo, la stessa cosa, questo dovrebbe essere il nostro cervello, questo è il cervello di un bambino, attivato, iperattivato, con tutte le caratteristiche, anche dei loci, e dei, come si chiamano, delle parti del cervello, che ti danno poi, nell'adolescente, che già, c'ha la tempesta ormonale, poverina, ma se io gliela do, diventa schizofrenico, infatti la schizofrenia, compare a 15 anni, tu hai un'alterazione, già tua fisiologica, che devi gestire, se io te lo do, a 15 anni, vai fuori di zucca, soluzioni, allora, se questi, si facessero furbi, ma deve diventare, proprio una cosa, un po' generalizzata, cioè deve diventare, un cambio globale, non è che uno, per volta, puoi fare qualcosa, c'è tutta la politica, che deve cambiare, su tutta la popolazione, per andare ad alterare questo, cioè l'industria alimentare, non è che la possiamo cambiare, da un momento all'altro, sicuramente, possiamo andare a lavorare, Silvia è qua a disposizione, per andare a lavorare, sui nostri chakra, ci dobbiamo mettere, di impegno, e connetterci, con sta cavolo di luna, e terra, eccetera, io vorrei scappare, dalla città, adesso vedremo, cosa si può fare, più che altro, bisognerebbe, cercare di modulare, appunto, l'industrializzazione, l'inquinamento, la plastica, essenzialmente, la plastica, trovare, la scuola, ecco, la prossima, l'unica cosa che dobbiamo fare, è andare a scuola, in un bosco, dobbiamo trovare un'aula, sulla collina, possiamo andare, a prendere, tutto quello, che possibilmente, è l'alimentazione biologica, possiamo, non dico cambiare casa, io ho una casa bellissima, cercare di renderla, un po' meno tossica, cercando di usare, le bottiglie di vetro, i detergenti naturali, e tutto quello, che è biologico, l'alimentazione, sia biologica, sia questo, tipo, di, piramide, che noi, portiamo avanti, prenderti solo la musica, 432, che è quella, di cui parlava di nuovo Massimo, stamattina, che è quella del, di, di Emoto, quello che ha fatto i cristalli, dell'acqua, in base alla musica, che è praticamente, non tutta la musica moderna, ma tutta la musica classica, si può fare, secondo me sì, però dobbiamo esserci, in da, sì, si può fare, non dire così, però dobbiamo metterci, d'accordo. Grazie. 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 Grazie.